Musica Non mancherai delle mie live su youtube se vuoi provare a vincere skin pass battaglia o vbux Dovremmo eliminare gli avversari mentre salti o cadi Quindi dovremmo appunto eliminare 5 avversari mentre saltiamo oppure cadiamo Molto molto semplice quindi io ad esempio spano qui bot perché non ho appunto i nemici nel laboratorio della battaglia Quindi spano i bot, posso tipo ad esempio usare una bouncer, un pompa o un assalto e appunto andarlo ad eliminare Infatti eccolo lì dove è andato questo ok Quindi mi avvicino, salto Ok gli tolgo vita fino a quando non lo vado ad uccidere Quindi continuo a saltare Ok ucciso, uno fatto Potete anche non usare magari una bouncer ad esempio fate una scala Spanate, vabbè io spano un bot però voi dovete farlo in partita pubblica Quindi lo spanate, gli togliete tanta vita Ok dove va questo? Ok togliete tanta vita Ok Togliete tanta vita poi fate un salto e lo uccidete Ok riproviamoci Quindi risate ancora in aria, lo uccidete e siete a 2 su 5 Quindi davvero semplicissimo, venivate 5 avversari in questo modo Vi consiglio soprattutto le bouncer perché sono molto molto più comodi In quanto potete saltare praticamente all'infinito E completato questa semplicissima sfida Quindi spero che questo video sia stato d'aiuto per capire come completare questa semplicissima sfida Se è così come al solito vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche Così siamo aggiornati su questi video e like con lo schieno Paso Taglia Infine condividete questo video, ci sono i miei amici Noi ci vediamo in un prossimo video e alla prossima live Grazie a tutti